Benvenuti internati nel canale di Guerzo86, io sono Riccardo del canale di Google Guy e oggi sono qui per recensire un Icon Pack in Material Design pensato, disegnato e sviluppato completamente in Italia Ma prima, sigla! Eccoci qui ragazzi sulla dashboard di questi Icon Pack come sapete, come mia tradizione, recensisco un Icon Pack in Material Design Ho voluto recensire questo in particolare perché è uno che merita veramente attenzione Cosa di particolare? Prima di tutto è creato e sviluppato, come avete sentito dalla intro, da un designer italiano Francesco Pennella, che saluto Una persona molto, molto simpatica Vi ricordo che questi Icon Pack è disponibili a 1,22€ sul Play Store però con un'offerta limitata per festeggiare i 500 download del 40% Quindi andrete a risparmiarci un po' E farete un favore allo sviluppatore perché tutto il lavoro che c'è dietro voi non ve lo immaginate E ve lo dico io che sono anche un appassionato di design Non perdiamoci in chiacchiere e andiamo a analizzare la grafica dell'app che conta anche quella Ci troviamo una dashboard facile da utilizzare Avviamo una toolbar indigo con una status bar un po' più scura un indigo più scuro e un floating action button color pink 500 Premendo questi tre pulsantini potremo condividere carton inviare una mail allo sviluppatore e vedere il changelog dell'applicazione Una delle cose belle di questo Icon Pack la dirò più tardi ma certi di voi l'avranno già intuita Facendo uno swipe da sinistra verso destra come di consueto accederemo alla sezione icone che è la parte cru di quest'app Adesso siamo inciampati in un piccolo bug che speriamo Francesco risolva Come vedete le icone sono veramente belle curate nei mini particolari di altissima qualità e seguendo perfettamente le linee guida del material design Questo Icon Pack assomiglia molto a KMZ però a differenza di quello comprende molte più icone e è proprio per questo che vi consiglio questo Icon Pack Oltre al fatto che è splendidamente disegnato in ogni suo minimo dettaglio ha una miriade di icone che lo sviluppatore sta continuamente cercando di includere Contando il fatto che lo sviluppatore Francesco è uno studente come me e di conseguenza anche lui non ha tanto tempo per stare dietro a questo Icon Pack però le icone le sta aggiornando con una frequenza pazzesca perché ogni settimana o ogni due vengono almeno 40 icone e sempre di applicazioni nuove che tramite il toolkit Incore Request noi chiederemo a lui Analizziamo delle icone Facciamo un esempio lui ha anche introdotto icone come quella di Clash of Clans che sono molto difficili da realizzare Io essendo anche io un appassionato di grafica e avendo creato icone so dirvi di per certo che creare delle icone come queste richiederebbe un notevole lavoro Questa di Clash of Clans è molto molto particolare Adesso ve le scorrerò pian pianino per farvi vedere un po' quante sono e vi ripeto sono veramente tantissime Per farvi un esempio l'originalità è di Phonograph Phonograph come sapete è un lettore musicale in material design e che ha un'icona che rappresenta il phonografo un vecchio strumento per leggere i vinili Come vedete questa è molto simile all'icona stock però lui l'ha voluta riproporre con il vinile nel solito sacchetto o come lo chiamate Andiamo ad analizzare ancora un po' la dashboard che ormai conoscerete meglio di me qua ci sarà la sezione Apply l'icon request un toolkit molto potente che permetterà di inviare allo sviluppatore tutte le applicazioni da tematizzare e nella sezione Informazioni vedremo le informazioni dello sviluppatore stesso Adesso come di consueto faremo una prova sulla mia home screen Eccoci qui ragazzi sulla mia home screen ma come potete vedere questo e-compact si sposa perfettamente con lo sfondo Ristando in tema di sfondi io invoglio lo sviluppatore Francesco a creare o meglio dire introdurre nell'applicazione come negli altri compact una sezione wallpaper però a mio avviso dovrebbe introdurre dei wallpaper che crea lui completamente in material design e non fare come altri creatori di pacchetti core che prendono delle immagini da Google le caricano sul cloud di Imgur e voi potete scaricarle tramite l'icon pack Adesso scorrerò tutte le app dell'app drawer per vedere le icone come stanno Come vedete stanno veramente bene nella home e voi con i vostri download cercate di spronare Francesco sempre di più a creare nuovissime icone consigliandogli alle trame del toolkit apposito Credo che con questa video review per il worth 86 io abbia finito vi ricordo di mettere mi piace qua sotto se vi è piaciuto questo e-compact e se anche voi andrete a scaricarlo commentate qua sotto e consigliatemi qualche e-compact da recensire e magari iscrivetemi se vi piace questo format di video e come sto facendo i video sul canale di worth 86 vi ricordo che le critiche costruttive sono sempre ben accette iscrivetevi al canale di worth 86 e se volete passate anche dal mio seguiteci sui social per rimanere aggiornati sulle ultime novità relative ai nostri due canali chiude la connessione con il pubblico e ciao!